Grazie a tutti. 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 di avere tantissime persone, tanti amici al congresso di Milano, di poter condividere un pochino quelle che sono state le nostre esperienze e mi aspetto una grande partecipazione anche perché al congresso ci saranno esperti di caratura sia nazionale che internazionale importanti, ci saranno degli eventi anche mediatici con giornalisti che andranno a affrontare anche temi non esattamente secondari che sono i temi dell'economia, i temi della formazione e quelle che sono anche le nuove tecnologie, quindi ci vediamo a Milano per fare della SIUD una società sempre più forte.